ariete oggi lo spirito inquieto che avvertite potrebbe sviluppare la tendenza a commettere qualche azione impulsiva e ruenta la voglia di uscire dalla routine provoca una reazione un po aggressiva che crea squilibrio e contrasti nei rapporti con gli altri controllatevi di più toro luna e marte opposti offendono la vostra sensibilità e abbassano notevolmente stato d'animo ed energie non bastano sole e mercurio armonici a farvi recuperare terreno cociuti come siete se avete deciso di vivere male questa giornata lo farete sicuramente gemelli venere torna in aspetto benevolo e alimenta le vostre aspirazioni sentimentali predisponendovi ad accogliere il lato affettivo della vostra vita con un'apertura rilassata che attira simpatie e conferme un conforto che risulta prezioso in un momento un po faticoso cancro mercurio compie gli ultimi passi nel segno e consiglia di mettere a punto le trattative e i contatti che vi stanno a cuore favoriti da angolazioni benefiche avete modo di preparare un terreno fertile per coltivare occasioni fortunate che cambieranno qualche aspetto della vostra vita leone venere nel segno vi induce a più amorevoli considerazioni ma marte dissonante ancora vi aggredisce e oggi la luna disarmonica distorce le percezioni facendo emergere una giornata piuttosto esitante moderate e distinto di accentrare tutto su di voi e ascoltate gli altri vergine le forze positive del vostro cielo vanno affievolendosi leggermente ma non creano problemi lasciano a voi lo spazio per portare avanti i vostri programmi secondo una buona predisposizione d'animo che avete in eredità da un periodo davvero benevolo tono vitale ancora alto bilancia il settore sentimentale torna a sorridere si allentano le tensioni e i contrasti oppure si scalda il senso di solitudine o lontananza un maggior benessere interiore vi accompagna togliendovi quelle pressioni che ultimamente vi hanno creato disagi e insoddisfazione scorpione luna e marte nel segno oggi esaltano la carica emotiva e passionale con sensazioni di grande intensità e voglia di emozioni forti l'amore risulta un po conflittuale ma non per questo meno intrigante per voi che amate mistero sfide e protagonismo sagittario saturno nel segno nella sua lunga permanenza da forma e corpo a situazioni e progetti ma richiede una grande dose di perseveranza e senso del sacrificio chi riesce a superare brillantemente questa esigenza non avrà che da beneficiare di un duraturo successo capricorno sono possibili incontri e circostanze che assumono una grande intensità e vi fanno scoprire aspetti della vita finora sconosciuti l'ambizione è alta ma dovete porre attenzione a qualche possibile conflitto di potere con qualcuno autorevole che può creare un problema acquario venere si pone in aspetto dissonante e disturba la sfera affettiva e sentimentale creando un abbassamento del livello di benessere e sintonia con chiamate anche la luna oggi si affianca a marte in angolazione disarmonica e non concede grandi soddisfazioni in una giornata sotto tono pesci stato d'animo intenso la carica emotiva è alta e vi orienta ad una visione suggestiva e anche un po tormentata della quotidianità con una forte passionalità in ogni azione e pensiero buone le risorse fisiche e la vitalità siete ancora in buona forma per acquisire grandi conferme personali buone stelle